adesso abbiamo detto ben be no come te insegnare a porta sprevesa no e difficili cinque versi commenti si vari come te che ho fatto a tipo quando si azzerri a da sfagurri si batte sul bastone in terra e sono finito e si sono fermate e si firma e si firma provo su un attimo poi cammino ma cosa non si firma e poi sono tutte ferme però adesso quindi non riconoscono il bastone quindi non mi serve a nulla non mi serve va bene comunque mi stai spennendo dei prussi dei lati o no se mi saprò più così faccio male che provo in vago pago e arrangiate uno pacheco vabbè buon proseguimento e grazie ancora grazie ciao a tutti ciao